Fare diritti in biblioteca sabato 27 maggio dalle 10.30 con Paola Castagnotto che ci presenta Fare diritti ma ci presenta anche un libro di Alessandra Bocchetti, Basta l'Archemy. Qual è il rapporto? Il rapporto è che Alessandra Bocchetti che è una delle voci più autorevoli del femminismo italiano dagli anni 70-80, quindi una donna, tra l'altro è stata cofondatrice del centro Virginia Wolf ed è stata veramente una donna che ha scritto, lei è una saggista, una giornalista è una donna che riflette molto sulla contemporaneità, sul passato, sulla storia del femminismo e sulla contemporaneità ma le affinità che ho trovato, quindi la proposta di questo libro è perché Fare diritti è nato per portare all'attenzione intanto per parlare del piano nazionale di ripresa e resilienza dal punto di vista delle donne ma non per le donne, per tutti perché le donne hanno una voce che può essere una voce autorevole e competente da spendersi a tutto campo per il governo generale e tutti i problemi del cambiamento di questo Paese quindi l'affinità che ho trovato è che lei riflette sul femminismo come grande strumento non appunto di rielaborazione delle mancanze delle donne e delle cose non fatte e dei furti proprio di presenza e di mortificazione per le donne ma riflette della potenza che le donne potrebbero esercitare e quindi dei saperi e delle competenze e in più, altro punto in comune che ho trovato per quello che trovo interessante questo libro che è un saggio, è che pone un tema che è molto caro anche a Fare diritti che è il recupero di una capacità di fare movimento quindi è inutile oggi pensare alle leadership individuali o alle esibizioni di sapere settoriale le associazioni sono tante, tante fanno molte cose l'importante però è trovare una nuova coralità è una parola che sappia proprio rompere le divisioni non è più il momento di dividersi ma è il momento di acquistare infatti giustamente lei dice che le donne hanno molta sapienza e hanno competenza ma hanno poco potere e allora il potere non può essere acquisito forzatamente soltanto con strumenti legislativi ma deve essere un processo proprio di riappropriazione di una parola corale e di una valorizzazione di sapere e di intelligenza e tanti distribuiti nella nostra società quindi l'ho trovato un libro interessante perché costringe a una consapevolezza tutte noi quindi non dobbiamo aspettarci regali il futuro per le donne, un futuro migliore per le donne nel nostro paese come nel mondo non sarà regalato da nessuno e non basteranno le leggi che pur vi sono leggi importanti serve una consapevolezza e una forte coscienza che c'è una potenza femminile che va spesa grazie a tutti